eccoci con francesco giacco allenatore appunto dei allievi siamo qualcuno per fare un po una chiacchierata in casa osimana allora francesco e te già iniziato a preparazione sentate già il vivo del campionato siete anche un gruppo abbastanza numeroso come stanno andando un po le cose stanno andando bene siamo un gruppo di 36 ragazzi e siamo divisi tra i provinciali allievi cadetti e sono ragazzi veramente meravigliosi ormai siamo 45 anni che siamo sempre un gruppo degli allievi e ogni anno è sempre diverso l'obiettivo fondamentale di farli diventare uomini innanzitutto e cercare di dare qualche ragazzo per la prima squadra diciamo negli ultimi due tre anni ci siamo riusciti bene e quindi questo è l'obiettivo di noi allenatori di farli arrivare in prima squadra pronti ma soprattutto di farli diventare uomini ecco tra l'altro come detto tanti ragazzi siete anche un bello staff numeroso infatti non posso che non nominare innanzitutto daniele cesaretti che allena con me lui agli allievi cadetti e poi insieme a noi c'è anche matteo barigelletti e poi c'è un ragazzo che l'anno scorso faceva la juniores soprannominato conosciuto da tutti che è il papu e e poi abbiamo anche l'aiuto sia di franco falcetta che segue diciamo come responsabile tecnico e poi una volta a settimana una volta ogni due settimane viene anche il capitano della prima squadra che è luca patrizi insieme a prosmann che ci danno una mano e sono molto felice perché il campionato è iniziato bene i ragazzi hanno tanto voglia e hanno proprio voglia di imparare quindi questa è una delle categorie che a me piace più di tutto in assoluto perché la categoria quella diciamo che anche la figi ci dice che la categoria più importante quindi è bello vederli crescere ecco questo ecco tu tra l'altro sei l'osimano d'occhio quindi allena l'osimana anche giocato l'osimana giusto quindi cosa rappresenta per te l'osimana ma tutto tutto e io tanto devo ringraziare la società e chiaramente vi devo ringraziare in assoluto il mio padre perché tanti anni fa mi ha detto ma perché non alleni i ragazzi e l'osimana piano piano iniziato ad allenare i ragazzi e l'osimana e poi adesso sono quasi 18 19 anni adesso non mi ricordo ho fatto tutte le categorie tranne giovanissimi allenare l'osimana è un sogno è un sogno perché mi sento proprio osimano lo so che mi sento proprio osimano allenare i ragazzi è un sogno e così quello che non sono riuscito diciamo nel nel calcio giocato perché ci ho giocato fa tutto il settore giovanile con l'osimana poi in prima squadra ho fatto solo un'apparizione quindi non è che sono riuscito tanto certo spero come allenatore dai sono auguro per il futuro no poi guarda veramente sono contento perché c'è responsabile francesco bellucci che ci dà una mano tutta la settimana nel lavorare nel migliore dei modi c'è veramente un'organizzazione importante perfetto grazie mille francesco buon lavoro ciao grazie ciao